La mia ricezione ha fatto Fukudome, su una battuta in salto, è arrivata in tuffo e comunque una data positiva. Tira ancora forte Hawk, fa un miracolo Fukudome. Tira ancora forte Hawk, tiene Fukudome, palla per Erman che sblocca. Facciuta forte su Fukudome, che tiene i ginocchi a terra, Erman, non molla l'osso Milano. Moro sul diagonale di Hawk, bagger di Fukudome. Grazie a tutti. Fa cercare ora Miriam Sina, la manda in difficoltà, Fukudome la rende giocabile, bagger d'acciaio.